Pronto? 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 Guardate quanto sono bravo, mi sento proprio un telecamera man di quelli, professional E' caldissimo! Guardate come sembra buono già così Torna il momento Masterchef Levati con Seba e Kumiko che cucinano per noi i kawamushi Hi, oggi continuiamo kawamushi Benvenuti su una nuova lezione di cucina con Kumiko Arai Ciao! Oggi ci insegnerà a cucinare? Chawamushi Ok, quindi iniziamo subito a cucinare Guardate la nostra amica Kumiko come appende le collane alle pareti E' un po' timida però non volevo non farvi vedere, è un'usanza giapponese Nihonji non è un'usanza giapponese No, non è un'usanza giapponese, è proprio artistic Giapponese decoration Dice che non è così Vabbè, sapete, paese che vai, usanza che trovi Tra l'altro sto usando per la prima volta lo stand, lo questo stand Ditemi se riesco a tenerlo più fermo anche se ho i miei dubbi perché io sono un pochino troppo movimentato Prendete l'acqua Adesso praticamente prepariamo il dashi shiitake che sarebbe un fungo, il dashi di shiitake E lo prepariamo qui che così, così riusciremo a fare un chawamushi più saporito Praticamente sarebbe chawan, mi temete quello Chawamushi Ok Mushi in giapponese vuol dire vapore no? E bisogna usare ovviamente la pentola apposita, vedete questa che fa tutto il vapore Che così sopra potete cucinare questo chawamushi A me piace tantissimo il chawamushi Non so se piace anche a voi però ve lo consiglio Guarda che l'acqua bolle già Adesso dobbiamo mettere il nostro shiitake dashi Shiitake per fare il dashi Facciamo attenzione che non mi si bruci la telecamera che sarebbe poco carino Visto che già una mia telecamera ha fatto una brutta fina a Venezia Questo è quello che si fa con il katsu o il kombu Di solito si fa con il katsu che è un pesce oppure si può fare anche con il kombu che è un'alga Però lei la fa con lo shiitake Nonde shiitake nista no? C'è un sapore di chawamushi Perché lo vuole fare con un sapore molto da chawamushi no? Quindi adesso lasciamo qua a bollire per un paio di minuti Pam 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 Comunque stiamo usando il dashi di Kaya no ya Kaya no ya Kaya no ya Yeeey E' la prima volta che lo usa quindi Jishin ga nai Jishin ga nai vuol dire che non è sicuro se sarà buono o meno Ma io dal profumo vi dico che è buonissimo questo dashi Ecco qui che è quasi pronto PIN PIN Pronto Pronto aiutemi te E' pronto Ah però Moshi moshi te imi muaru Moshi moshi Pronto Pronto Simmasene Cotto Ah yonderu Yonderu Cheating Resta sta imbrogliando Sta imbrogliando Yoruste significa perdonami Yoruste Adesso usa quella Oh Ya Cosa non si usa Scusate questo non si usa No 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 Questo qua va buttato via Perchè è nuovo Vedete io quanto sono brava a cucinare Però Masterchef chiteru? Conosci Masterchef? Conno Ehm 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 Star Star Ehm Star Ehm Star Ehm 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 Cosa sarebbe carne di uccello Però ho detto cavolo Il suo indirizzo Ehm 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 Sta cercando Ma tutte le mie amiche stanno cercando moroso Non capisco Italia giui no kare shi dou Ine Ok Mi ha detto che le piacerebbe avere il moroso italiano Quindi se siete single Volete venire in Giappone Consiglio Kumiko Però fate in fretta perchè è un bel partito Quindi magari qualcuno se la prende ecco Quindi tutti voi Tutti voi che volete mandare l'applicazione Per diventare il moroso di Kumiko Sbrigatevi che non si sa mai La vedo un po' insicura Yoruste kiru no kai Ehm È veramente in grado di cucinare Kumiko Scopriamolo tra poco Uhhh shiso Shiso Ah questo è shiso A mitsuba A mitsuba Ecco questa è una foglia di mitsuba Pensavo fosse shiso ma è mitsuba Qual è il nome da me? Allora 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 Ah ok Hai detto che per fare il chawanmushi Dovete praticamente Dovete riscaldare il pollo Con l'acqua calda Dovete mettere sull'acqua bollente Che così la carne perde il grasso E così il chawanmushi viene più buono E nani Sono aburannukuto Motoshikunaru E detto che senza il grasso della pelle di pollo diventa molto più buono E lei mi chiede È giusto? Non è sicuro Lei dice che così è giusto L'aspetto di questa carne è del tutto invitante È davvero buonissimo Non è sicuro Non è sicuro Non è sicuro Guarda mi sento proprio un pro con sto a fare Oh guardate Vedete il grasso dell'animale è scivolato via Il grasso scivola via C'era una pubblicità che faceva così vero? Ucciteru Grasso scivola via Ti aiutemi te Grasso scivola via Ok Molto bene Anche questo lo puoi mettere nel trailer Cosa sta dicendo la nostra Kumiko? Non lo so Adesso prendete il vostro mitsuba Lei dice ma serve non serve non è sicuro Ma perché me lo chiede a me? Adesso ha detto che va a vedere le soluzioni Adesso la nostra Kumiko è andata a vedere la soluzione Per come fare il chawanmushi Accidenti Ci sta imbrogliando Lei non è in grado Comenna saine? Comenna saine Lei si sta scusando ha detto comenna saine Non sa se serve questo o meno Quindi chissà Lo scopriremo tra poco Ok Eccoci tornati Sono passati i nostri 30 minuti E il riso è pronto per essere cotto 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 Mi ha detto di nuovo che sta ancora cercando il moroso Non so se è un invito per me Lo so Guardate Ormai tutti i youtuber italiani hanno una moglie giapponese Quindi mi sa che me la devo trovare anch'io prima o poi Ecco qua Tagliamo 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 Io non la posso aiutare Vorrei aiutarla ma oggi è Kumiko no jimanduga Vorrei aiutarla ma come vi ho detto questo è il video in cui Kumiko ci fa vedere quanto è brava in cucina Quindi se la aiuto io che brava c'è Lei dice che non è brava a cucinare ma vabbè Guarda che si impara Ecco qua il Kamaboko 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 Mi ha detto che mi sono lavato le mani Mi ha detto se mi sono lavato le mani No Mi ha detto che mi sono lavato le mani Qualcosa per mescolare Qua adesso prendete l'uovo e mescolate con amore Aijou iriteru? Aijou iriteru? Iriteru Ok Perché se sta mettendo il cuore metto si sei tranquillo E niente io aijou iriteru? Con amore Con amore Con 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 Amore Amore Cucino con amore Cucina Eh? Cucino con amore Cucino con amore Ecco vedi Guardate che me l'ha chiesto lei eh Facciamo una ripresa dall'alto Comuncello Oh Oh Ok e questo la mettiamo dentro il nostro dashi Ecco qua così viene il dashi con l'uovo crudo Nande? Quello è la propria? Non è assai Cucino con amore Cucino con amore Va a controllare le soluzioni di nuovo Ora sembra io quando gioco ai giochi Quelli che non si capisce niente Ecco, guardate qua che abbiamo il fungo Queste sono le cosce di pollo e il mitsuba Queste vanno tutte dentro il nostro chawanmushi Per esempio, il ero? No, non ancora Ma com'è complicato fare sto chawanmushi, eh? Ecco qua il nostro chawanmushi Ecco qua Beh, qua per togliere la parte che non siete riusciti a mescolare bene Usate questo nito Non so come chiamarlo in italiano Tipo scola uovi Guardate quant'è bella Giman in giapponese vuol dire tirarsela 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 Oppure me la tiro Me la tiro Ok E tu mi? Eh, tu? Giman Giman Non gehing kotoba Eh? No, sono gehing jan Ho detto che il modo volgare è per dire giman No, guarda, non è volgare Tirarsela è volgare Se è volgare scrivetelo nei commenti Andiamo avanti con le canzoni in inglese Che poi ho fatte in giapponese Però nella versione demo erano in giapponese Vediamo se riconoscete questa I'm falling from the sky And wandering all along through the night non ti ricordi? non ti ricordi? non ti ricordi neanche lei non se la ricorda più adesso qua mettiamo il shiitake no no guardate quante cose ci mettiamo dentro poi ci... shiitake il kamabuko toriniku mettete la carne di pollo guardate come sembra buono già così eccolo qua che è pronto guardate che bell'aspetto e che profumino non avete idea eh e adesso lo mettiamo in padella padella e nani? padella padella non c'è più spazio vorrei aiutarla ma come vi ho detto è il suo video dove ci fa vedere quanto è bravo a cucinare quindi non la posso aiutare non ti ricordi? 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 perché questo qua praticamente questa rubrica è riesco a fare cucina da sola ovviamente io superviso così se fa errori la fermo perché sapete sono un grande esperto di cucina è diventato caldissimo ecco qua allora praticamente in questa pentola per farlo mettere con tutto il vapore così si faccia il vapore la mettete sotto l'acqua che si bolle e questa pentola sopra e chiudete il tutto quanti minuti? 2 minuti 2 minuti con il fuoco alto allora guarderemo questo per 2 minuti a fiamma alta e poi praticamente dovete farlo andare a fuoco lento bisogna aprire anche un po' il coperchio sopra e bisogna lasciarlo al vapore per altri 25 5 a te go per 25 minuti se ne va la nostra kumiko se ne va ha detto che è bello un fresco nell'altra stanza qui veramente si sta morendo di caldo forse voi non riuscite a vedere il fumo ma è tipo on same time sembra di essere alle terme cioè io inizio a spogliarmi non ce la faccio più allora vabbè consigli per chi vuole fare un date in Giappone allora consiglio allora di pregare questo chawammushi perchè sarà talmente caldo che ovviamente si riscaldano anche gli umori manca quere date ho detto che ciò dovete manca chawammushi azzukte karadatsukte ripresci shioio eh eh cosa appena detto mi spoglio ma io lo so e non so neanche copri acqua neanche ancora vabbè oh moni puntate io tensei oh mio dio sono passati due minuti dalla vita non ce ne siamo accorti cavolo ah è certo allo stesso ah è salita adesso non sono domani ora siamo fatti se fosse bene ma ce ne è bene in realtà non dovevano venire quelle bollicine ma va bene non ci sono scorti non ci sono scorti non ci sono scorti Guardate com'è buono È salatissimo sta cosa, mamma mia Mi ha chiesto se sapeva di sakura Gli ho detto no, sapeva di sale e basta Mi ha detto eh però potrebbe fare un po' male Se ne mangi romatico, praticamente sta leccando sale Vabbè Qui intanto noi aspettiamo i 25 minuti E se volete vedervi il video Degli Nari Sushi che sta preparando di là Andatevelo a vedere, sarà caricato prossimamente Vabbè, adesso qua il nostro Chawamushi è pronto E poi da poco ha tolto, però avete visto l'ha tolto E' migliorato, è suarita E seconda settimana? Vabbè non è così Non è 근데 raggiunto E se non è non è più Non è vero, mi ricordo è tutto Non è vero, non è perfetto può Non, è vero, fatissima, poi succede l'ha La vittima è a lecone Vabbè è molto di là Non è vero! È vero? È vero 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 portiamolo fino qua guardate noi veri uomini e adesso ci gustiamo anche il chawanmushi eccolo qua guardate che c'ha un aspetto un profumo davvero delizioso quindi secondo me è buonissimo guardate che carino anche questo spoon adesso proviamo il nostro chawanmushi canari surprise questo non doveva succedere che cosa ci sarà mai dentro c'è dentro praticamente tipo acqua vabbè è un po' difficile da fare ci riproveremo magari in una delle prossime puntate se vi è piaciuto questo video comunque anche se non ci è venuto buonissimo no è buono beh comunque è buono anche se non è proprio perfetto diciamo che è buono guardate che non tutte le cose perfette sono buone non tutte le cose perfette necessariamente piacciono ci sono un sacco di cose che non sono perfette che piacciono lo stesso oddio che è filosofico ricorda i miei vecchi video sul canale e comunque se volete vedersi il video che ci siamo fatti di Nari Izushi andatevelo a vedere ve lascio il link nelle schede alla fine noi ci vediamo domani con un altro video ai 2 di pomeriggio e Kumiko adesso ci saluta bye 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 ciao 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 ciao